Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Noi che usiamo Lightburn. L'argomento di oggi, che fino adesso non l'abbiamo ancora trattato, si tratta delle forme aperte. Cosa sono le forme aperte? Le forme aperte sono quelle forme che noi andiamo a disegnare o che sono all'interno di un progetto, che magari ci è passato qualcuno e così via, che non sono completamente chiuse. Queste forme possono darci dei problemi. Ci possono dare dei problemi per quanto riguarda alcune operazioni che vogliamo fare su questo progetto con delle forme che non sono completamente chiuse. Fra le cose che ostacolano le forme aperte, vi faccio un piccolo elenco, sono innanzitutto abbiamo che il riempimento non viene effettuato correttamente, perché, perché logicamente essendo aperto, Lightburn riempie solo le forme chiuse. Lo stesso con il riempimento più off-set, scusate, fill off-set, off-set, o come ci avete lingua italiana o lingua inglese, comunque uguale. Quindi il riempimento è quest'altra funzione, che adesso vi faccio vedere, che è l'off-set fill. Se noi andiamo a fare il riempimento off-set, off-set fill, su una forma aperta non ce le fa. Allora, come vediamo questo? Innanzitutto io consiglio sempre di lasciare in modifica, vado in opzioni, lasciare sempre il rendering riempito lento, anche se è più lento, però ci fa vedere come sono messe le forme. Queste sono sicuramente forme chiuse, perché vengono riempite correttamente, queste sono forme che non sono chiuse. Già questo è il primo indice, però torniamo alla visione di prima per chi non ha il riempimento attivo. Allora, in questo modo le vedo con un pochino di fatica, per quello che io consiglio sempre di mettere, quando si fa il riempimento, riempimento offset, di andare a mettere appunto il riempimento nelle opzioni. Un altro modo per vederlo, che è abbastanza semplice anche quello, se abbiamo però in questo caso un livello che è tutto riempimento, è andare a fare l'anteprima. Adesso ve lo faccio vedere. Io vado a selezionare l'anteprima, qua, e vedete che mi dice, le forme 3, è stato tradotto un po' male, le 3 forme, sono state impostate per riempimento, ma non sono state chiuse. Sono state rimosse perché causano problemi. Se vado a vedere continua, mi fa vedere solamente quelle 3, che sono completamente chiuse. Oppure, sempre dalla finestra dell'anteprima, posso dire, mostrami quali sono, e lui mi va a selezionare quali sono le 3 forme, che non sono chiuse correttamente. Questo è il primo modo per vedere, appunto, quali sono le forme chiuse e le forme aperte. Adesso voglio farvi vedere un altro modo, per cercare quali sono le forme aperte e le forme chiuse. Andiamo sempre con questa situazione. a selezionare tutte le forme che abbiamo sul piano di lavoro, che si può fare con la funzione di selezione, quella verde, da destra a sinistra, oppure possiamo fare anche con CTRL A, che mi seleziona tutto quello che c'è sul piano di lavoro. Poi andrò in modifica, e vado a vedere seleziona forme aperte. E mi vedete, mi fa sempre vedere queste 3. E quindi un altro modo per vedere le forme aperte che non sono state chiuse, quindi il riempimento non me lo faranno mai. Altro modo, l'altro modo è quello che, se sono tutte già selezionate come riempimento, e quindi vado a vedere se lo sono, quindi converti in percorso, sono già tutte convertite in percorso, posso andarle a selezionare, quindi con CTRL A, seleziono tutto e vado a... allora, seleziono tutto e vado a vedere una cosa molto semplice, che è quella di... andiamo a vedere sempre da modifica, seleziona le forme aperte impostate per riempimento, e quindi anche questo mi fa vedere le 3 forme. Quello che uso io, uso solitamente un'altra cosa che per me, a occhio, la vedo meglio, perché seleziono sempre tutto, e vado a vedere l'editazione dei nodi. Qui vedo, se vado a ingrandire, che qui c'è una parte che è aperta. Lo stesso qui c'è una parte che non coincidono l'inizio e la fine del tracciato, perché sono questi quadratini che identificano la fine dell'inizio e il tracciato, e se non sono, diciamo, uniti, non mi ritiene chiusa la figura, come in questo caso, qui sono cerchi perché è un'ellisse. Questo che è un poligono, e quindi ci sono tutti spigoli, me la fa in questo modo, e poi abbiamo... ce n'è un altro, che anche questo, vedete che le inizio e fine del percorso non coincidono. Come fare per andare a chiudere queste problematiche? Primo, utilizzo questo, poi anche perché c'è un po' di dimestichezza con i nodi, mi piace lavorare con quello. Prima cosa, posso andare tranquillamente a andare a chiudere il tracciato andando a prendere il nodo e spostandomelo qua. Quindi, vedete, adesso è unito. Se io vado a fare il da finestra e vado a mettere questo, vedete, mi ha riempito già anche questo. Ok? Quindi andiamo a ritoglierlo. Faccio un CTRL-Z, torno indietro, lascio così perché lo voglio far rimanere aperto. Lo stesso posso fare con questo cerchio, ovvero sia, prendo il nodo, uno dei due, prendo questo e lo sposto qua. Finché non coincidono questi. Ok. Adesso vedrete che se vado a fare finestra attiva, me lo riempie anche questo. Facciamo un CTRL-Z perché voglio ritornare alla situazione di prima. Il terzo sarà la stessa cosa, cioè questo esagono che non è chiuso perfettamente. Questo è il primo metodo, quello che solitamente uso io. Poi c'è un altro metodo, ovvero sia, andiamo a selezionare magari solamente questo e vado a provare con modifica e poi vado a fare la chiudi percorso, chiudi tracciato. E vedete, erano abbastanza vicini perché se andiamo a vedere, adesso vado a richiudere dalla finestra questo, poi faccio un CTRL-Z. Vedete, c'è poca differenza per cui me lo va a chiudere da solo con questo. Se ci fosse stata più differenza, vado a vedere nodi, lo vado a spostare con una differenza maggiore e posso andare a fare invece, è selezionato, seleziono così, modifica e vado a fare con chiudi percorso selezionato con tolleranza, ovvero sia, mi dice cosa facciamo? Sposto l'estremità delle due del percorso che non è chiuso? Proviamo. Vado a fare così, vedrete che piano piano, vedete, ha avvicinato i due estremi, ve lo faccio vedere, che erano solamente a 7 mm perché invece con un'altra funzione che adesso vedremo lo fa solo se sono molto, molto, molto vicini e questa è una. Oppure posso dire unisci con una linea, quindi dico unisci con una linea, ci vorrà un pochino più di spazio ma me lo unisci con una linea, ok? Riporto la situazione perversa, ctrl z, ctrl z lo lascio in questo modo. Possiamo fare un altro, un altro modo ancora e adesso lo andiamo a vedere. Proviamo ad andare a chiudere questo tracciato con un altro comando che è quello chiudi tracciato. Vedete, ha eseguito l'operazione, andiamo a vedere se il tracciato a questo punto è chiuso. Vedete, non l'ha chiuso per cui vuol dire che non è da buon fine perché sono troppo distanti i due nodi quindi io vado a ritorno in selezione di nodi le avvicino abbastanza perché a volte succede che sono uno sopra l'altro ma non proprio in maniera ottimale metto in questo modo vedete se è così proviamo adesso a fare modifica chiudi tracciato e me lo fa perché la distanza fra i due nodi iniziale finale deve essere talmente vicina che me lo va a sistemare in automatico proprio veramente è una frazione di un millimetro quindi torniamo indietro ctrl z e adesso vi faccio vedere un altro modo di fare queste cose però ve lo faccio vedere con un'altra figura vado a caricare un altro progetto quindi apri recente facciamo il nodi 3 questo salva no ecco vedete qui ho un esagono questo esagono all'apparenza può sembrare che sia tutto unito ok infatti se vado a fare il riempimento o selezione vado a fare il riempimento non me lo fa vedere perché devo andare ad attivare la finestra vedete non lo fa non lo fa perché perché questo ve lo faccio vedere dei nodi e si vede dei nodi sono sei segmenti a sé stanti quindi non è un poligono completamente chiuso ma sono sei poligoni a sé stanti infatti se io faccio così vado a selezionare questo me lo sposto vedete uno me lo sposto e spostiamo due vedete che sono sei tracce tre linee diverse ma non è una forma chiusa perché non sono uniti fra di loro quindi io faccio ctrl z ctrl z e ritorno alla situazione di prima seleziono tutto allora io posso fare con oltre che con vediamo se me lo fa chiudi il tracciato vediamo se me lo fa non l'ha fatto perché a questo punto essendo più tracciati insieme io devo dare un altro un altro comando seleziono tutto e faccio alt j di juventus ok quindi ripeto alt j e andiamo a vedere adesso come si presenta la situazione seleziono vado sull'editazione dei nodi e vedete che c'è solamente un nodo verde quadrato che è l'inizio e la fine quindi a questo punto qua se io gli do il riempimento finestra rendering riempito mi fa il tutto ecco questo è questi sono anzi piuttosto che è sono i modi con cui andiamo a cercare le forme aperte e le andiamo a sistemare per poter fare le nostre cose perché come vi dicevo prima se ho una forma aperta non posso fare un'unione booleana ve lo faccio vedere torniamo sul progetto di prima io vado sul progetto di prima quindi a file progetti recenti andiamo sul forme 1 non mi interessa se io vado a fare questo porto qua vedete che questi due sono aperti ricordatevelo questo è chiuso seleziono tutte e tre non mi si attivano i comandi booleani ok semplicemente per il fatto che questi due sono aperti quindi io vado a selezionare questo poi vado a selezionare questo possiamo provare abbiamo visto prima che lo fa con chiudi percorsi con tolleranza ne selezioniamo una volta però vedete questo l'ho selezionato ok vado a fare questo la stessa cosa modifica con tolleranza faccio così finché non mi si chiude chiudo anche questo ok a questo punto posso prendere questo lo metto qua mettiamo questo modo seleziono tutto e a questo punto posso fare anche l'unione booleana cosa che se erano aperti non si faceva allora io mi auguro che il video mi sia piaciuto e che serva più che altro diciamo a chi inizia un pochettino a lavorare con lightboard con le forme a progettare quindi ho spiegato cosa si deve fare per rintracciare le forme aperte come fare per correggere per andare avanti con il nostro lavoro senza tirare giù qualche santo come a volte succede anche a me vi saluto tutti se vi è piaciuto un bel like iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi siete sempre di più ci vediamo al prossimo video ciao